Un altro mondo è un film esistenziale che però in qualche maniera ricorda il grande cinema del passato ma anche un po' perfino Bud Spencer e le sue avventure africane quindi un ampio raggio di narrazione, come avete lavorato su questo elemento di coppia? In effetti questo qui è un film di coppia ma è anche un triangolo in effetti nel senso che questo è il nostro nuovo, è il vero protagonista del film amico inseparabile del piccolo Charlie In effetti è un film che se gli si vuole trovare un riferimento è molto piedone l'africano in realtà come io amo definire questa storia è a tutti gli effetti un about a boy ai tempi di Obama nel senso che è la storia di una molto strana e forzata paternità di un rapporto di amore e di accettazione da parte di un ragazzo che tende a non accettare niente neanche di se stesso non accetta la sua vulnerabilità e la sua fragilità che si trova invece a dover a che fare ogni giorno con la fragilità e la vulnerabilità di un bambino neo-orfano che è il suo fratellastro per cui è un rapporto, un film di sentimenti dove io faccio da spalla a questo piccolo e meraviglioso protagonista che un giorno sarà presidente degli Stati Uniti magari quindi io lo tratterei al meglio visto anche la somiglianza con l'attuale inquilino che si chiama Fishing Chips lo conosco da quando ero piccolo Volevo chiedere a Michael appunto il suo rapporto con Silvio e anche insomma che cosa ti ha insegnato a parte l'amore per la caccia e pepe Mi ha insegnato tante cose innanzitutto mi ha insegnato tante cose sul cinema, sulla macchina da presa ma non solo cose noiose, mi ha insegnato a giocare a basket, gli appai sono tutti a giocare però lui mi ha insegnato come fare canestro ad ogni tiro e poi mi ha insegnato a giocare a calcio e sì, lui ha detto a rimorchere ragazze Ci avevo messo un anno per chinarmi su quella lettera Io ci vado No Dieci anni per afferrarla e tutta la vita per leggerla Secret Garden è una delle tue canzoni preferite ha un ruolo in questo film perché racconta la tua relazione con questa canzone e poi qualcuno vocifera che Springsteen abbia visto un po' del film quindi vorrei sapere cosa si prova ad avere il proprio idolo che guarda il suo film È una cosa abbastanza incredibile in effetti perché questa è una canzone che io non potevo non avere in questo film perché l'ho ascoltata quando la stavo scrivendo ancora quando questa storia era ancora una sceneggiatura l'ho sentita e l'ho ascoltata mentre giravo questa storia e c'è una fortissima aderenza a quello che racconta il film proprio perché Andrea e Livia sono due personaggi che attraverso l'arrivo di un bambino riscoprono quello che è il loro giardino segreto che per paura di trovarci solo ricordi spiacevoli non guardano più non esplorano più ma che invece è un giardino che una volta guardato è meraviglioso allora questa canzone, questo Secret Garden di cui parla Bruce Springsteen sentivo che era fondamentale per il film e non mi sono rassegnato ai no che dall'alto della Sony mi arrivavano come mannaie per cui sono riuscito tramite amici ad arrivare ad ottenere un'email abbastanza personale del boss in persona ed è così che ho scritto un'email che iniziava con Dear Bruce e che è abbastanza incredibile alle quali seguivano in effetti suppliche proprio vere suppliche di bisogno di questa canzone e dieci minuti di film all'interno dei quali c'era anche la sequenza dove io avrei inserito nella quale avrei inserito la canzone dopo tre settimane è arrivato un messaggio sempre dall'alto che però questa volta era diverso ok quindi se potete solteggiare la mail di Springsteen tra coloro che vedranno il film basta che ti mandano il biglietto e tu gliela puoi mandare la mail privata del boss però volevo chiedere a Michael se ama Springsteen o quali sono i suoi cantanti preferiti non so, il mio preferito mi piace Bruce Springsteen anche se non so 5 cani ma non so come Michael Jackson si mi piace Bruce Springsteen anche se di lui conosco soltanto 5 canzoni e poi veramente sul suggerimento Michael Jackson, Nina Simone, Eminem Eminem è in continuo questo è un film molto importante per te il tuo secondo film da regista il futuro? il futuro non lo so proprio perché in realtà non sapevo neanche perché 5 anni fa non sapevo che sarei mai arrivato dove sono oggi so che sono alla ricerca di una mia espressione di una mia strada alla ricerca di storie che mi emozionano e che possibilmente anche di ruoli che siano delle sfide delle opportunità per me però qualora non dovessi trovare quei ruoli comunque sono alla ricerca di storie per cui per il domani potrebbe esserci un film d'attore o magari anche un film da regista e basta grazie a tutti